Ciao astronomi! Oggi introduciamo un nuovo strumento designato per annunciare la sicurezza e l'efficienza delle vostre osservazioni astronomiche l'ASCOM Safety Monitor Driver per i computi di EAGLE L'ASCOM Safety Monitor Driver è una interfaccia di software che comunicano con il tuo software di automazione dell'automazione del telescopio Evaluate le condizioni ambientali e determina se è sicuro di continuare le osservazioni o se le azioni protettive, come cercare l'automazione dell'automazione o parcare il telescopio, sono necessari Quindi, perché questo è importante per i useri di EAGLE? I nostri computi di EAGLE sono equipati con una serie di sensori avanzati come un sistema di monitorazione a livello di potenza un sensore alto per monitorare la luminosità un inclinometro per mesurare il telescopio' elevazione un detektor per dettagli aspettanti movimenti e più Per integrare questo sensore con l'ASCOM Safety Monitor Driver possiamo proporzare evaluazioni di sicurezza reale Questa integrazione assurda che il vostro equipamento funziona sotto condizioni ottimali Questa è come funziona Nel vostro software dell'automazione 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 del telescopio in questo caso stiamo usando NINA clicca sul tabellare e scegliere il monitor monitor dell'ASCOM Poi clicca sul botone di SETTING per aprire la nuova finestra del driver Qui troverete diversi tabellati relativi a valori di temperatura, calcolazioni di tempo, monitorazione di correnti e altri dati sensori L'ASCOM Safety Monitor driver continuamente sceglie data dall'ASCOM EGLE e quando scegliere una delle opzioni scegliere il status dell'automazione del telescopio che puoi vedere nella parte del basso della finestra del driver Per esempio, puoi scegliere che il telescopio è sicuro quando la temperatura dell'automazione o di uno dei sensori dell'automazione dell'automazione è above a livello del centro Puoi decidere se è sicuro se la temperatura dell'automazione dell'automazione e della temperatura dell'automazione del telescopio è above a valore del centro Puoi decidere il risultato quando l'automazione dell'automazione dell'automazione non è scelto quando il telescopio è scelto almeno a una certa inclinazione above the ground o quando il movimento non è dettagliato con il risultato puoi decidere nel software EGLE MANAGER X Se le condizioni devono non sicure il driver è capito di mandare un status non sicuro per il vostro software automazione In questa modo il vostro sistema può iniziare automaticamente iniziare le mesi protettive come pausare le osservazioni o sicurare l'equipimento con il monitor di ASCOM ASS con il monitor di ASCOM non solo automazione l'automazione si elevando a un nuovo standard di sicurezza e efficienza sapendo che il vostro sistema monitora e rispondere a cambiamenti ambientali Per più contenuti che ti aiutano a esplorare l'università come un pro abbiatevi al nostro canale e con il nostro canale di più di più a 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 Grazie a tutti.